Telecamere di sorveglianza sulle aree antistanti la pineta di Montesilvano. Il comune sceglie di combattere il tanto lamentato fenomeno della prostituzione dotando di telecamere le aree più soggette al malcostume. I dispositivi saranno messi in circuito tra di loro e monitorati dagli agenti della centrale del comando di polizia. Un piano ben pensato per andare incontro alle esigenze di residenti, esercenti e turisti della zona. Per ora lungo la pineta si vedono oltre alle telecamere posizionate l'una dall'altra a qualche centinaio di metri anche cartelli che riportano l'ordinanza che impedisce la contrattazione di prestazioni sessuali. Dopo la proposta dei garage del sesso di Attilio Di Mattia che riscosse forti critiche e le politiche di dissuasione del fenomeno la giunta Maragno inizia un cammino volto a dare un segnale di cambiamento. Saranno i dati poi a giudicare l'esito dell'iniziativa. Grazie a tutti.